Ciao Vergine, bentornato. Oggi è martedì, 15 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Vergine. C'è chi scende e c'è chi sale. Il proverbio suonerebbe la vita è fatta a scale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma qui al posto della vita stessa ci sono i pianeti che la regolano, anzi, come dice Dante, parlando del sistema celeste, lo cielo i vostri movimenti inizia. Bene per voi parebbero iniziarli Marte Cancerino e Mercurio in Scorpione, il primo vi dà coraggio, il secondo associa alla logica un buon fiuto e grazie a Venere che lo precede anche un buon tocco di creatività, magari fuori dagli schemi, ma interessante. Peccato che nonostante le induzioni di Giove ambizioso nel punto più alto del cielo, con la Luna e Saturno contro, intimiditi e insicuri, non ne facciate nulla, temete il confronto con gli altri e piuttosto che uscirne perdenti preferite rinunciare prima ancora di mettervi in gioco. Ecco cosa significa fregarsi con le proprie mani, la mancanza di autostima fa 90. Il rapporto di coppia risente di una discreta ambiguità, e sono possibili anche falsità, egoismi, bugie e qualche tradimento. L'incompatibilità dei caratteri potrebbe fare la differenza che porterà a una crisi di coppia molto seria. L'amore è destinato a diradarsi e le coppie a dissolversi. I single, pur avendo buone opportunità, non sapranno sfruttarle e annasperanno in un mare di indifferenza le loro problematiche. Sono in arrivo forti emozioni e grandi soddisfazioni. Nella vita sociale cercate di cogliere il frutto di tanto lavoro. Se vi hanno dato un appuntamento importante sappiate che non è che arrivando tardi che vi farete apprezzare, anzi. Lasciate stare ogni altra cosa e concentratevi su una vostra idea, o progetto, curando di sintonizzarvi, e bene, con l'ambiente che vi circonda. In questo modo potreste avere una brillante affermazione. Mercurio oggi vi crea una certa confusione soprattutto in alcune decisioni che dovreste prendere e su cui tergiversate. L'amore sembra ostinarsi ad essere avaro con voi oggi. L'amore non vi sorride per adesso, ma arriva un'importante schiarita che vi farà ricredere sulle vostre reali possibilità. Ottima salute che compensa quel senso di solitudine. Oggi penserete molto a una persona che vi è particolarmente cara e dalla quale avete ricevuto molto, ora ha bisogno come non mai di voi. Siate generosi nel riconoscere le sue necessità. Guardatevi intorno e aprite il vostro cuore a nuovi orizzonti. Se venite da una storia complicata cercate di non cacciarvi in qualche situazione peggiore. Meglio aprire il cuore e respirare aria pura da single. Bene grinta, coraggio e energia, la giornata inizia con qualche capriccio ma poi volge positivamente. Non tascurate le vostre amicizie e potendo passate la serata con loro. Non abbiate timore di osare, se state pensando di organizzare un viaggio fatelo con tranquillità. Le risorse potrebbero sopraggiungere improvvisamente e potreste godere di un ottimo periodo di vacanze. Uno dei vostri pianeti prediletti, Urano, si dispone in angolo favorevolissimo al vostro segno e dà modo alle vostre iniziative più brillanti di prendere letteralmente il volo. Si alza oggi la vostra già notevole facoltà di attenzione, nulla di quel che accade attorno vi sfugge, tutto esso pesato e analizzato. Se ne giova il settore professionale e quello pratico attivo. Non solo il fisico ma anche la mente ha bisogno di nutrimento per voi in questo momento. Anche Mercurio molto positivo vi fa trovare il tempo per assistere a presentazioni di libri ed eventi culturali che vi aprono a nuove prospettive. Martedì a due marce, contro di voi la Luna e Saturno che, come antico Dio della giustizia, è costretto ad attenersi alla via di mezzo. In vostro aiuto ecco invece il trigono di Urano e il sestile di Mercurio e di Venere in conflitto con lui mamichevoli nei vostri confronti. Anche Marte nel settore delle amicizie vi da manforte, attenti a come vi esprimete però, se sarete ipercritici rischiate di tirarvi la zappa sui piedi. Amore ed Eros. Se uscite da una storia che vi ha creato dolore ora l'amore lo tenete a distanza e quando tenta di bussare l'ore spingete in malo modo, attenti, se non entra dalla porta prima o poi lo farà dalla finestra. Lui non si rassegna mai, ama troppo piantare frecce nel cuore e probabilmente con voi ci riuscirà passando attraverso l'amicizia. Un incontro ha un corso o durante una breve vacanza, un imprevisto che si trasforma in opportunità ed è fatta. Mettete in conto che un'iniziale antipatia potrebbe trasformarsi in passione. L'animosità riguarda invece le relazioni con gli amici, i colleghi o magari con un socio che a vostro dire non sta mantenendo le promesse lasciando sempre a voi la patata bollente. Qualche discussione anche in famiglia riguardo a prestiti o eredità, la vita di cuore insomma oggi è particolarmente movimentata, al punto da distrarvi sul lavoro. Lavoro e denaro. Obiettivo importante, sempre, ma in particolare a inizio settimana quando si tracciano le linee guida per tutti gli altri giorni. Nulla da ridire sul vostro capo, classico pezzo di pane. La previsione non cambia se il boss siete voi, gran staccanovista ma comprensivo con i collaboratori, almeno con quelli che non battono la fiacca. Divergenze di opinione invece con il socio, ostinato su certi argomenti, latitante su altre a vostro giudizio fondamentali. Per promuovere il proprio marchio bisogna muoversi, farsi pubblicità, lavorare non basta, occorre anche interazione sociale. Successo scolastico a un concorso di selezione o a un esame, non siete sempre loquaci ma quando si tratta di parlare delle vostre esperienze formative o sciorinare la vostra competenza davanti a un docente la lingua vi si scioglie e vi esprimete in maniera sintetica, pulita ed estremamente corretta. Niente strafalcioni, niente abbreviazioni all'ultima moda, siete ancora tra quelli che sanno usare congiuntivo e condizionale e all'inglese dilagante preferiscono la lingua di Dante. Successo garantito per chi ha pazienza e spalle larghe, le ragioni del sapere prima o poi ottengono il meritato riscontro anche sul piano economico, guadagni extra vi consente di levarvi qualche sfizio. Benessere Al risveglio non siete informissima, spalle e ginocchia indolenzite, specie se il weekend l'avete trascorso in bici o a scarpinare. Ma se il giro di boa di Saturno, che si attesta tra i 28 e i 30 anni, lo avete già superato? E magari anche il secondo, l'umidità autunnale combinata con la fatica si fa sentire. Questo non vi impedisce comunque di essere sorridenti, vitali e innovativi, mangiate con gusto ma senza esagerare e bruciate gli eventuali eccessi frequentando la palestra ogni volta che studio e lavoro ve ne concedono la possibilità. Utile per il vostro benessere mentale comunicare con gli altri, soli si riflette e si prendono decisioni importanti, ma per avere opinioni ed essere sempre ben informati occorre mantenere un dialogo vivace anche con chi la pensa in modo opposto. Dialogo e non alterco, sbagliato chiudere agli altri, magari col ragionamento riuscirete a tirarli dalla vostra parte. La rigidità non fa mai buon gioco da qualsiasi lato la prenda. Per lei, innamorate cotte, ma prima di farvi un film pericoloso indagate sul bel tipo che vi sta facendo ballare il cuore, potrebbe non essere quello che vuole sembrare. Per lui, individuata la ragazza dei vostri sogni, ma c'è un problema in o non indifferente, ha già un compagno col quale dichiara di essere felice. Non rovinativi il karma, meglio cambiare sogno. Colore delle emozioni, grigio nuvola. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.